E what's up a tutti? Benvenuti da Giocherina in questo video in cui parleremo un attimino di soltanto alcuni elementi appunto di quest'ultimissimo e recentissimo Game Awards 2019. Allora prima di tutto ragazzi è stato eletto gioco dell'anno quindi Game of the Year io ho qua un elenco insomma di tutte le cose che sono state fatte vedere in questo Game Awards 2019 perché io purtroppo non l'ho potuto guardare in diretta quindi voglio un attimo avere a mente dei punti di riferimento per cui stavo dicendo che è stato eletto Game of the Year quindi sarebbe a dire gioco dell'anno Sekiro Shadows Die Twice che dire di questa premiazione ragazzi che sinceramente non me l'aspettavo ma non perché il gioco in questione non lo meriti anche perché tra l'altro ragazzi io purtroppo sottolineo purtroppo non l'ho ancora comprato e non l'ho ancora giocato è stato creato da From Software quindi sarebbe a dire ovviamente dai creatori insomma di Dark Souls quindi diciamo che il genere più o meno è sempre quello lì però appunto io non l'ho ancora comprato non l'ho ancora giocato ma sono rimasta un pochettino sorpresa ecco perché sinceramente non mi aspettavo addirittura che potesse essere eletto gioco dell'anno perché? Perché magari uno potrebbe pensare ah siccome c'era in lista anche Death Stranding allora assolutamente doveva vincere quello no ragazzi non sto dicendo questo anche perché tra l'altro appunto Death Stranding se non sbaglio appunto è stato premiato per la migliore colonna sonora e quindi parliamo un attimino di questo ragazzi perché secondo me Death Stranding non è stato eletto gioco dell'anno anche se appunto le aspettative erano molto alte perché sappiamo tutti benissimo l'ho fatto Kojima quindi magari è il gioco dell'anno bla 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 queste poi ragazzi sono chiacchiere le chiacchiere sappiamo che stanno a zero insomma io sapete benissimo ho comprato al lancio Death Stranding l'ho incominciato lo starei giocando purtroppo non in maniera molto continuativa a mea culpa perché sapete benissimo ragazzi che i miei impegni purtroppo non mi permettono ora come ora di stare tanto tempo alla play quindi l'ho giocato per adesso tipo una quindicina di ore se non erro quindi insomma diciamo che una minima idea del gioco perché effettivamente fino ad ora ho potuto farmi soltanto una minima idea del gioco me la sono fatta e quindi cosa penso io di Death Stranding vi starete vi starete chiedendo magari no penso che Death Stranding sia un gioco un pochettino controverso tra molte virgolette nel senso che Death Stranding purtroppo non è un gioco comprensibile da tutti ma non perché alcune persone siano più stupide di altre non sto dicendo questo ma perché ragazzi è un gioco un pochettino appunto controverso un pochettino complicato ecco perché perché io ragazzi ho giocato una quindicina di ore del gioco come vi stavo dicendo e della storia quindi della trama in sé ho visto veramente pochissimo e vi renderete conto che 15 ore ragazzi sono tante e quindi vi starete chiedendo ma perché hai visto così poco della storia perché è così il gioco ragazzi non è che io mi so concentrata su missioni secondarie o so troppo stupida per stare appresso alla trama no è che è proprio il gioco che ti porta a seguire certe strade tra virgolette quindi a fare per esempio certe missioni quindi intanto tu completi le missioni e magari ogni tanto ci vedi una cutscene comunque vedi uno spezzone diciamo della trama e questo non avviene così di frequente perlomeno fino ad ora che l'ho giocato io non è avvenuto così di frequente quindi i pareri che io ho letto in giro sul web riguardo Death Stranding erano molto positivi principalmente riguardo la storia in sé quindi le persone insomma i pareri che ho letto dicevano Death Stranding molto bello per la storia la storia è veramente molto bella quindi io questo non posso negarlo e non posso manco affermarlo perché vi ripeto io purtroppo nel gioco non ho visto moltissimo della storia in sé non ho visto moltissimo quindi magari probabilmente l'idea che mi sono fatta fino ad ora di Death Stranding è un pochettino stata deviata tra virgolette dalle circostanze nel senso che appunto ragazzi fino ad ora come vi dicevo io ho visto poco e niente della storia e quindi per assurdo per assurdo continuando a fare missioni eccetera eccetera il gioco un pochettino dico un pochettino ragazzi perché non voglio sbilanciarmi troppo perché non è che il gioco l'ho finito e sto dando un parere finale ma un pochettino il gioco mi sta annoiando per questo dicevo che il gioco è un po' controverso ragazzi è un po' difficile da comprendere perché è difficile probabilmente entrare nell'ottica di Death Stranding nel sistema di gioco nel mondo di gioco quindi devi tra virgolette farti una ragione che il gioco è quello e quindi se tu comunque lo vuoi scoprire vuoi continuare ad amarlo per la storia ti devi fare una ragione che il gioco è così e punto nel senso che abbiamo visto tutti ragazzi il gameplay insomma che ci aveva mostrato Kojima e quindi da lì tutti quanti saranno scatenati e vanno detto ma minchia sto gioco è una palla colossale ed è questo il punto di Death Stranding che se lo vuoi amare magari per altri suoi aspetti tipo la colonna sonora che fino ad ora ragazzi che l'ho ascoltata è veramente appunto molto bella quindi di sicuro il premio è strameritato o tipo la storia che purtroppo io non ho ancora sviscerato a fondo devi purtroppo tra virgolette farti una ragione del fatto che il gioco è così quindi se vuoi scoprire gli altri suoi aspetti migliori tra molte virgolette devi farti scendere giù la sua meccanica ecco le sue meccaniche quindi te le devi far scendere giù ripassatemi sempre i termini ragazzi fra molte virgolette per questo che secondo me Death Stranding non si è guadagnato il premio di gioco dell'anno per questo motivo perché probabilmente anche quando io lo finirò magari dirò che appunto la storia è fantastica è incredibile ma il gioco di per sé l'ho trovato un pochettino noioso a causa delle sue meccaniche di gioco a causa del suo gameplay e penso che questo sia il parere di buona parte delle persone che l'ha giocato ovviamente ragazzi fatemi sapere anche la vostra opinione a riguardo però ripeto il mio è soltanto un parere un po' approssimativo perché purtroppo nel gioco non ho visto tantissimo perlomeno della storia non ho visto tantissimo non l'ho finito quindi non posso esprimere pareri più approfonditi voi magari mi direte sì anche io la penso così giocherina no io non la penso così perché bla 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 per cui questo secondo me ragazzi è il motivo per cui appunto Death Stranding non si è meritato il premio di miglior gioco dell'anno di gioco dell'anno evidentemente Sekiro Sekiro non so come si pronunci se l'è meritato per diversi aspetti magari appunto per la storia per le meccaniche di gioco per la non so per il gameplay tutto quello che vi pare io non l'ho giocato lo recupererò sicuramente appena potrò perché se ha vinto questo premio evidentemente è perché se lo merita dopodiché ragazzi forse mi sono dilungata pure un po' troppo su Death Stranding ma ci tenevo a condividere con voi questo mio parere per sapere appunto anche voi cosa ne pensate dopodiché ragazzi parliamo un attimino del fatto che insomma è stato mostrato un nuovo trailer di gameplay di Ghost of Tsushima gioco di sicuro attesissimo da molti videogiocatori io gli ho dato un'occhiata così proprio rapidissima quindi non so dirvi effettivamente se la cosa mi ha sconfinferrato o meno sicuramente magari le ambientazioni potrebbero catturare la mia attenzione dopodiché Devil May Cry 5 è stato premiato come Best Action Game non so darvi parere al riguardo perché purtroppo non l'ho giocato dopodiché ragazzi parliamo un attimino di quello che sicuramente ha più colpito di questi Game Awards perché ragazzi molto inaspettatamente così dal nulla Microsoft ha presentato la sua nuova console incredibile ma vero io effettivamente quando mi sono alzata al mattino e ho visto ho detto Xbox che roba è ho detto sarà non so una miglioria dell'attuale Xbox invece no è la nuova console inizialmente l'aspettavamo come Xbox Scarlett invece è stata presentata come Xbox Serie X tanto per aggiungerci un'altra X è stato appunto fatto vedere il design della console e già lì ovviamente ragazzi il pubblico si è scatenato ovviamente penso che quelli che non hanno mai amato Xbox o comprato Xbox alcuni di loro perlomeno magari influenzati da questo l'abbiano criticato a prescindere ho visto pareri invece di persone che dicevano di non aver mai comprato Xbox che invece la trovavano molto carina insomma dal design elegante insomma il pubblico ovviamente ragazzi come succede sempre si è diviso in una maniera allucinante cosa ne penso io da Sonara insomma praticamente da quando ho iniziato a giocare ma qua adesso c'entra poco ragazzi il fatto che uno sia Sonaro o Boxaro c'entra ovviamente il gusto della persona e io vi devo dire che non l'ho trovata così male la console anzi direi che un pochettino ha rivoluzionato il concetto di console come di solito lo abbiamo conosciuto quindi di solito ragazzi sempre una console magari pensata per stare in orizzontale insomma quello che ve pare ovviamente si possono mettere anche in verticale però diciamo che la forma è sempre stata quella più o meno nel senso una forma rettangolare sicuramente Nintendo Switch vabbè già aveva un pochettino rivoluzionato tutto questo concetto però parlando di Xbox e di Sony ragazzi sicuramente hanno apportato qualcosa di nuovo perché più che una console ragazzi a me sinceramente ricorda un computer questo probabilmente magari è stato pensato anche apposta per farci pensare questo nel senso che probabilmente vogliono farci capire che la console in questione avrà capacità tali da poter forse adesso io la butto proprio lì ragazzi quindi passatemi tutte le cose che dico da poterci forse quasi ricordare le capacità di un computer anche perché ragazzi quello che hanno fatto vedere quindi quello che hanno annunciato per Xbox serie X è stato totalmente inaspettato anche quello perché è stato fatto vedere ragazzi Hellblade 2 io ho portato Hellblade Senua's Sacrifice qua sul mio canale come serie lo sapete tutti benissimo il gioco mi è piaciuto talmente tanto che l'ho ricomprato per PS4 non appena è stato fatto uscire anche su console perché ci tenevo troppo ad averlo anche in formato fisico visto che appunto inizialmente era stato insomma dato soltanto in formato digitale e quindi io ho amato quel gioco ragazzi questo annuncio è stata insomma una cosa caduta era al cielo perché mai me lo sarei aspettato anche in questo caso e purtroppo sarà un'esclusiva sarà un'esclusiva ragazzi esclusiva PC esclusiva Xbox serie X e accidenti Dio non voglia insomma il cielo non voglia che io mi ritroverò costretta a comprare per la prima volta nella mia vita una console Microsoft per giocare un'esclusiva perché di solito ragazzi le esclusive Microsoft non mi hanno mai interessato davvero questa qua sarebbe la prima in assoluto e insomma il cielo non voglia che io debba comprarmi Xbox serie X per giocare questo gioco anche perché insomma giocarlo sul mio PC ragazzi penso sia assolutamente fuori discussione il trailer che è stato fatto vedere penso sia assolutamente incredibile cioè quello che si è visto insomma quello che si vede colpisce colpisce davvero non posso immaginare quale sarà effettivamente la storia del gioco anche perché dal trailer non si evince questo però si evince ragazzi quanto tecnicamente sarà pazzesco quanto sarà incredibile tecnicamente mi ha colpito veramente molto ragazzi poi il trailer è di impatto tra l'altro perché insomma vabbè non ve lo spoilerò non ci ho potuto fare la reaction ragazzi perché già l'avevo visto ieri il mio hyper era troppo alto se non l'avete ancora guardato ragazzi andatevelo a vedere e che dire tutto inaspettato secondo me microsoft ha voluto fare una sorta di dispettuccio diciamo così a sony annunciando così e mostrando poi tra l'altro cioè proprio così come se fosse niente da un giorno all'altro la nuova console mostrandone addirittura già il design già l'aspetto quindi secondo me è stata una piccola botticella qua fra capo e collo per sony secondo me quindi boh chissà come risponderà a sony perché tra l'altro sto vedendo insomma qua nella lista dei premi degli annunci che ps5 e pc tra l'altro mi sembra di vedere quindi non sarà manco proprio un'esclusiva a sony che appunto è stato annunciato un certo godfall per ps5 appunto quindi sony ha mostrato insomma è stato fatto vedere questo per ps5 io effettivamente non ho guardato il gioco in questione ma secondo me sony ripeto una piccola botticella ragazzi se l'è proprio beccata così bam di totale sorpresa e microsoft ha voluto un attimino anticipare i tempi anche perché tra l'altro ragazzi sony si ci ha detto che ps5 uscirà nel periodo natalizio 2020 guarda caso proprio il periodo di natale effettivamente noi della console sappiamo poco e niente è girata qualche immagine così sporadica ma effettivamente del design finale della console e l'aspetto finale della console non sappiamo assolutamente ancora niente è trapelata qualche notizia su quali potrebbero essere nuove funzioni del pad di ps5 ma insomma notiziette un pochettino così cioè un pochettino che non sanno di niente per cui sony di sicuro deve insomma beccarsi questo colpo e vedere come magari rispondere nel prossimo periodo voi ragazzi di altre cose sinceramente non mi interessa appunto molto parlare vabbè è stato mostrato un nuovo trailer di final fantasy 7 remake io purtroppo ragazzi prima di final fantasy 9 non ho mai giocato alcun final fantasy per cui non mi posso esaltare più di tanto per questo remake ma magari potrebbe essere un acquisto interessante appunto per rigiocare un final fantasy di tanti anni fa e tra l'altro insomma da quello che ho sempre letto in giro dovrebbe essere uno dei migliori final fantasy mai fatti forse per questo hanno deciso di fare il remake di questo dopodiché per quanto riguarda altre cose ragazzi di orient will of the wisps e the wolf among us 2 già ne ho parlato ovviamente nelle due reaction che sicuramente avrete visto e non mi interessa sinceramente più di tanto parlare di altri aspetti di questi game awards ovviamente ragazzi aspetto tutti i vostri pareri riguardo questi argomenti che abbiamo affrontato qua sotto in commento fatemi sapere voi che cosa avete pensato di tutte queste cose questo video termina qui grazie a tutti un bacione e obdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao ciao